Ragazzi, passate da Eneba.com per avere a un prezzo stracciato PSN Card e Microsoft Card per le vostre spacchettate sui football e tanto altro sul mondo videoludico. Non facciamoci fregare dagli store delle nostre console con prezzi molto molto più alti e acquistiamo tutti tramite i link che trovate in descrizione. Compra anche tu su Eneba.com Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono SimoPlay, oggi siamo di nuovo insieme per iniziare una nuova serie. E sì ragazzi, arriva una nuova serie ulteriore, ve l'avevo promessa. Infatti mi sono iscritto ad un altro torneo e vi avevo già accennato anche questo. Questa volta si tratta di un torneo con limitazione squadra, perché è un torneo dove si può giocare con giocatori base massimo 3 stelle non livellati ragazzi, quindi una cosa molto particolare. Si può livellare soltanto lo stile di gioco, ma le abilità non si possono toccare. Questo torneo, che poi un torneo non è, in realtà è un campionato e adesso vi spiegherò come funziona, è organizzato dal gruppo Facebook Amici di PES. È gratuito e ha qualcosa in palio, infatti si vincono diverse PSN card. Ci sono infatti due leghe da 8 partecipanti, siamo 16 in tutto nel campionato. Chi vincerà le due leghe, lega A e lega B, vincerà una PSN card a 20€ a testa. Poi ci sono i playoff, i playoff sono organizzati in maniera molto particolare. I primi due di ogni gruppo, quindi gruppo A e gruppo B, vanno nei playoff Champions League, chiamati Champions League. Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto va in Europa League, quindi sempre playoff e poi può andare a premio, ovviamente. Il settimo e l'ottavo, quindi il penultimo e l'ultimo in classifica dei rispettivi campionati A e B, vanno ai playoff Conference League. Chi vince i playoff Champions prende 50€ in PSN card, chi arriva secondo 10€. Vittoria dei playoff Europa League 30€ in PSN card, chi arriva secondo ovviamente niente. Vittoria Conference League 10€ in PSN card. Ma come funzioneranno i playoff, i vari playoff? Molto semplice ve lo sto leggendo proprio dal regolamento. Ad esempio i playoff Champions, cioè quelli tra i primi due arrivati delle rispettive leghe, funzionano così. Ci sono due semifinali, prima del gruppo A contro seconda del gruppo B, seconda del gruppo A contro prima del gruppo B. Poi si arriva alla finale e chi vince? Prende 50€ in PSN card. La stessa cosa succede nei playoff Europa League e nei playoff Conference League. Insomma, ci sono gli accoppiamenti e poi si gioca fino alla finale. Ritengo che questo sia un progetto estremamente interessante e che ci divertiremo tantissimo. Prima di andare avanti invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Ragazzi, mi raccomando, questa parte è fondamentale. Non andate avanti senza aver lasciato l'iscrizione con la campanella attivata perché è il massimo supporto gratuito che potete dare a questa community. Un altro modo importantissimo per supportare il canale e lasciare il like a questo video che aiuta tantissimo l'andamento e il contenuto ed è anche gratuito. Quindi, fatelo. Quest'oggi voglio proporvi due super offerte Neba, ragazzi, con dei codici sconto esclusivi. Prima offerta valida fino al 23, ragazzi, quindi solo due giorni. Ragazzi, se acquistate una o più PSN card a 100€ passando dal link che trovate in descrizione o nel primo commento solo se passate attraverso quel link, altrimenti non funziona, avete un super sconto. Dovete anche applicare il codice TOTYT. Già costano poco, 84,53, ma con questo codice sconto 74,30. Poi, andando in checkout, vi faccio vedere proprio come fare, così non avete dubbi, selezionate carta di credito oppure Paypal oppure quello con cui volete pagare perché Neba accetta praticamente tutto e vi mette il costo del servizio. Si arriva a un totale di 79,98 per una card da 100€. Voi la riscattate e vi vengono accreditati immediatamente 100€ sulla vostra Play. Seconda offerta di Neba che voglio proporvi quest'oggi dedicata ai possessori di Xbox. Mi dite, ma per Xbox non c'è mai niente? No, questa volta c'è anche per Xbox, però ragazzi, acquistate, affrettatevi, perché poi il 23 finisce l'offerta. Non so, sinceramente, quando arriveranno altri sconti anche su Xbox perché sono rari. Comunque, Microsoft Card per Xbox serie S, serie X, One è uguale. Da 50€, ragazzi, valgono le stesse cose che ho detto prima. Dovete passare dal link che trovate in descrizione o nel primo commento solo attraverso quel link e dovete inserire il codice sconto X50EU, ragazzi. Applichiamo, qua me l'ho già applicato praticamente, insomma, 38,34. Facciamo checkout, andiamo a selezionare il metodo di pagamento. Come già detto, Neba accetta praticamente tutto. 41,50 totale per una card da 50€. Non c'è il limite di acquisto, quindi ne potete acquistare quante volete. Solo se passate dal link che trovate in descrizione nel primo commento. Questo è fondamentale. Affrettatevi perché queste due super offerte, come già detto, scadono il 23. Ok, ragazzi. Siamo pronti ad iniziare questa avventura. Questa è la squadra che ho deciso di utilizzare. Ho cercato di replicare il più possibile il mio modulo primario, quello che utilizzo con tutti i giocatori, le leggende, eccetera. Sia a livello di modulo, dove è possibile. C'è una piccola variazione. Qui c'è un ala, un esterno destro e non una seconda punta. Qui c'è una punta e non una seconda punta. Dove è possibile, ma anche a livello di interpreti, non solo a livello di modulo. Cioè, due collanti ci sono. In panchina mi sono portato il collante, eccolo qui. Poi Isco, più simile possibile a Ronaldinho, con la differenza che mi fa anche la crocchetta di Suola, come Neymar. Eze mi va a sostituire Neymar, ma devo farlo giocare in punta, perché seconda punta non può giocare. Gli si abbassa l'overo. E alla crocchetta, come Neymar, è fortissimo. Moukoko mi va a sostituire Mbappé, diciamo, no? Anche lui ha la crocchetta, non di Suola, ma ha una bella crocchetta, un bel sinistro ed è ottimo. Adama Traore mi va, diciamo, molto, tra virgolette, a sostituire Messi, più che altro perché ha una crocchetta velocissima e ha un buon sinistro. Vabbè, i collanti. Terzini larghi, vanno bene più o meno tutti i terzini. Io ne ho provati un po' e mi piacciono. Ma l'Asia e Mbappé, anche perché Mbappé è buono anche come centrale, se qualcuno sta male può giocare anche come centrale. Vabbè, Minks e Gomez sono due centrali fisici, non lentissimi e alti, perché devono essere giocatori alti che ci sono i crossatori, 1,96, 1,88. In panchina mi porto Brian Diaz, che è anche un bel crocchettone, lo posso usare come trequartista. Zouma, per dare un cambio in difesa. Iconè, sulla destra, quando si stanca Traore. Rashford, anche se non è una punta, può giocare in punta del sostituto di Moukoukou. E Arambari, ve l'ho fatto vedere prima, è il collante che mi porto come sostituzione. La Fonte è il portiere di sostituzione. Perché vi sto dicendo tutti i giocatori? Perché ho dovuto consegnare la lista dei giocatori che utilizzerò nel torneo e non si possono più cambiare per tutto il campionato. e dovremmo usare per forza tutti questi giocatori, senza mai cambiare. Ok ragazzi, questo è il primo avversario che ci troviamo di fronte in questo campionato organizzato da amici di PES e ovviamente cerchiamo di fare bene. Allora ragazzi, abbiamo Moukoukou giù e quindi giocheremo con Rashford. Per forza. E gli mettiamo ovviamente il contropiede. Poi. Ah, tutti giù per terra. Quindi, o Minx o Gomez. O Minx o Gomez, o Minx o Gomez, Gomez. Mettiamo zoom. Poi. Ah, pure Marusic è giù e quindi questa è la partita del tutti giù per terra e Marusic l'avrei messo al posto di Mbappu. Non si può. E quindi giochiamo così ragazzi. Anche questa è la difficoltà di questo torneo che impone le condizioni casuali dei giocatori. Con questo tipo di giocatori condizione non certo di una roccia a livello di resistenza in generale ma anche a livello di frecce proprio. Molte volte sono giù e quindi perché io ho fatto diverse amichevole con i tre stelle prima di fare sto campionato e mi capita molto spesso e quindi abituiamoci a questa cosa diciamo. vediamo la squadra del nostro avversario eccola qui bella squadra devo dire interessante anche lui Adam Adororé è messo sulla destra e andiamo in campo vediamo che succede. Siamo in campo ragazzi siamo in campo prima partita di questo campionato amici di Pessa cerchiamo di fare bene ragazzi non sarà facile secondo me qui verso Eze ok vince il contrasto di spalla attenzione oh vai Eze mamma mia un po' di rimpalli stavamo riuscendo a passare poi niente vai oh Eze peccato che cosa stava mettendo dentro ah ah fai oh si è bloccato tutto assurdo avete visto oh no che pessima scelta dai isco mmm oh peccato bravo comunque mi sta contrastando abbastanza bene vai Rashford bravo bravo si è messo proprio nella linea di passaggio ah insista no che mi ha fatto il passaggio sensazionale senza che gliel'ho chiesto sbaglio probabilmente avrò tenuto prenduto anche la volata cavolata devo imparare che queste cose con i giocatori tre stelle non si possono fare ragazzi dai 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 Sì. Vai Traorè Mamma mia l'ha presa Peccato Bella azione Peccato Ad angolo Oh Troppi uomini Per passare Sto pallone Difficile In questa maniera Fuorigioco? No Rashford In fuorigioco Eh si Con il piede In fuorigioco Si Sbilenco Dai dai Via Uh No male Eh dai 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 Rushford Dai 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 Andiamo 1-0 Non male Sfruttato una disattenzione Ok Vai dida Vai Copriva perfettamente lo specchio Era praticamente impossibile segnare tirando dell'acqua Secondo me avrebbe dovuto metterla in mezzo O puntare al dribbling Per il genere Mamma mia Pericoloso Questo è stato pericoloso Ok Colpi di testa sono imprevedibili Bomba Bomba Finisce il primo tempo ragazzi 1-0 Per noi Comunque grazie a un errore che ha fatto lui E abbiamo approfittato giustamente Perché è un campionato Ci sono dei premi in palio E bisogna approfittare di tutti gli errori Giustamente Perché è competitivo E quindi 1-0 Andiamo al secondo tempo E vediamo che succede Siamo in campo ragazzi Siamo in campo Secondo tempo Di questa prima partita Del campionato amici di PES Gruppo A Perché poi c'è il gruppo B Io sono il gruppo A Come ho già detto Nell'intro del video Oh Madonna Un lag pazzesco Non riesco manco a selezionare i giocatori Ragazzi Sta laggando tantissimo Oh Ho dovuto continuare un altro po' con Rashford Aspettiamo un attimo di ragionare Oh vai Eze combatti Mannaggia L'unica pecca che c'ha È il fisico Non tanto Vai Rashford Stavo per approfittare di un altro errore Sempre con Rashford L'affluenza di quest'oggi È di 80.953 spettatori Occhio Via Eh Quante possibilità c'erano Di prendere in testa Vidal Mamma mia È Vidal Uno Uno Ho preso Potrebbe essere lui Prigio La fascia Rossi in mezzo Di Non è di Carina Sono abituato Regà Non c'è niente da fare Via Adesso sta attaccando ovviamente sulle fasce Abbiamo capito che gioco sulle fasce Ah già Fa dei cambi Regà Assolutamente Non far Non dargli il calcio danno Ottimo Ottimo Facciamo dei cambi ragazzi Isco È stanchissimo Quindi Brian Di Azz Icone Traore Rashford Può rimanere Per adesso Arambarri Kundumbia C'è qualcosa Vabbè Adesso Sostituzione Per la Roma Numero 22 Numero 37 Numero 15 Via 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 Questo pallone Nooo Il numero 11 Il numero 18 Attenzione Sostituzione Nooo Nooo Mi aspettavo che Ezze Mi stesse affiancando Invece È tornato indietro All'improvviso Mannaggia Perché non me l'aspettavo È fuori gioco Fuori gioco E comunque Areola ha fatto un miracolo Però è fuori gioco Sì Ha voglia Oh Vai Vai Eze Non ci credo che gliel'ha presa Non ci credo Non ci credo Mamma mia Vai di testa Mamma mia che capocciata che ha dato Non è bastata Non ha preso la porta Può volare in corsa l'ha data Hai visto? Vai Vai E andiamo Il 2 a 0 Importantissimo Raine Diaz Adesso prima dello scadere No Fuori giro Sì Prima dello scadere cerchiamo di fare il 3 a 0 È importante perché la differenza reti Insomma Qui si segna meglio è Bravo Bravo Con le gambe Bello Bellissimo Bellissimo Complimenti al mio avversario Bravo Bravo Bellissimo gol È chiaro che nei minuti di recupero qualcosa deve succedere Però ciò non toglie la bellezza del gol Finita Finita 2 a 1 Dai Anche se abbiamo preso un gol Sempre 3 punti sono Ragazzi Questo è il secondo avversario di questo torneo Giornata numero 2 Andiamo in campo Giochiamocela Allora ragazzi Abbiamo un po' di problemi in difesa Minx è giù E quindi metteremo Zouma Areola è giù E quindi gioca la Font Poi che più Per il resto Diciamo che possiamo restare così Vediamo la squadra del nostro avversario Luzantonio Rashford Che c'ho anch'io in panchina Pjanic Vidal Con i terzini anche lui Leggermente larghi Sicuramente per coprire le fasce Fa bene Secondo me Andiamo in campo Vediamo che succede Siamo in campo ragazzi Seconda partita dell'episodio Seconda giornata Del campionato amici di PES Cerchiamo di fare bene Perché Serve Accumulare punti Ovviamente Bravo Non è riuscito ad andarsene Peccato Fa possesso Per cagliare il pallone Ah bravo Mamma mia Non devo fare questi passaggi Ragazzi Oh che lag Tremendo Pallo Pallo Due e tre Pallo Bravo Bravo Sì eh Per portiere Tranquillamento E allarga per Malazzo Mamma mia Bravo con l'L2 E' un po' spento Sta facendo fermare Di continuo Chiudilo 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 Spazza Spazza Non è cosa di gestire Mamma mia Mamma mia Non è dita Sono abituato a dire Mamma mia Comunque in manuale L'ho presa Regà Nooo Con i tre stelle E' proprio difficile Ragazzi Perché sono molto lenti Cioè nel senso A livello di fare le cose Comunque la fonte Quale è il portiere Adesso mi perdono Mamma mia Diventa complicatissimo Anche soltanto Fare un passaggio Ragazzi Un passaggio Madonna Madonna Come stava segnando Regà Come cavolo Stava segnando Non aveva manco tirato Gli è sbattuto addosso Il pallone Meno male E' andata bene Oh regà Non so perché Non mi riesce Nemmeno un passaggio Dai Edza Insisti E' forte Comunque Il mio avversario E' ammazza Cambia molto bene Dai Dai Moukoko Eeeh L'1-0 Arriva così ragazzi Doppia crocchetta E sinistro Di uno dei tre stelle Più forti Che c'è nel gioco Adesso sono livelli Può giocare anche Divisione 1 Vediamo se gli aumenti L'opera Il mio poco Uuuuh No Peccato Devo andarmene però Un arretto di fisico Oh Tiramo Moukoko Dai Che è rimasta lì Andiamo Col 2-0 Andiamo Con lo slalom Che aveva fatto Isco Finisce il primo tempo 2-0 Ragazzi 2-0 Ma ancora Molto presto Secondo tempo Ragazzi Fuori gioco Subito fuori gioco Occhio Oh Liscia Completamente Il pallone Dai Intervieni E spazio Ottimo Bravo Mamma mia Isco Ne esce così Da questa situazione Fortissimo Isco Comunque Ragazzi Impressionante Non sembra Manco un 3 stelle Alle volte Via Oh Ficcato Bravo Uh Uh Di poco Ma questa cosa Di mettere Il pallone In mezzo Perché mi scrivete Ragazzi Non mi scrivete Quando vedete La play Accesa Per favore Ragazzi A meno che Non abbiamo Giocato contro Perché se non Mi escono I messaggi Mentre sto Registrando Io non voglio Togliere i messaggi Perché Ho la possibilità Di parlare Con i messaggi No Penso che La maggior parte Dei messaggi Che trovo Ecco Voglio dire La maggior parte Dei messaggi Che trovo Sono Un complimenti C'è comunque gente Che dice Ti seguo Eccetera Mi fa piacere Ricevere Il messaggio Occhio 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 Palo Palo doveva tirare A incrociare Però Occhio 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 Ah no Mi sono fidato Troppo Del tacco Di Mokoko Adesso Abbiamo Fato i cambi Mamma mia Se ne stava andando Pure dall'Aisco Che recupera Anche un ottimo Pallone Dai Vale E sempre Esco Sempre lui Ancora Esco Vai Lanciamo A Gokoko Vai Che ce l'hai Sul sinistro Alta Peccato Peccato Poteva essere 3 a 0 Adesso facciamo Dei cambi Facciamo Dei cambi Esco E stanchissimo Ha dato Tanto Ha dato Tutto Di lì Mettiamo Icone Ok Forze fresche In difesa E anche in attacco Ok Può stare Sostituzione Per la Roma Numero 22 Numero 37 Numero 26 Numero 10 Pazio Hai Un show Due palazzi Oh Di poco Non mi sono andato Pazio Che non si è concretizzato Il vantaggio Ahi Bella No Meritava il gol Che cavolo Icone Dove ha segnato E' importante Fare anche più gol Possibile Perché poi Nella classifica Può vincere La differenza Reti Eh ragazzi E' importante Chiaramente Anche rimanere Il più possibile A porta inviolata Tutto a corpo assorto Lo stava mandando In porta Finisce Finisce 2 a 0 Tre punti Importantissimi Complimenti al mio avversario Perché mi ha messo Comunque in difficoltà Ma ce la portiamo a casa Questo è l'avversario Della terza giornata Di questo campionato Allora ragazzi Molto male Areola è giù Quindi mettiamo la fonte Minx è giù Ma anche Zouma è giù Quindi volendo Possiamo agire In questa maniera qui Babu come centrale Marusic come terzino Non più su Babu Per il resto direi Che possiamo rimanere Assolutamente così Andiamo a vedere La squadra Del nostro avversario Eccola qui Possiamo andare in campo Siamo in campo Ragazzi Terza partita Dell'episodio Terza giornata Di questo Campionato Tre stelle Organizzato da Amici di PES Cerchiamo di fare bene Con questa squadra Tre stelle Oh peccato Vai Ah ho provato Un triplo elastico Sono bravo Ad aspettarmi Attenzione Questi scevalla Bello per Mokoku 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 1-0 Andiamo Sblocchiamo Importante Questo gol Dell'1-0 Palla in mezzo Pericolosa Attenzione La fine Palla nostra Non abbiamo Nemmeno Il nostro Portiere Titolare C'è la Fomita A sostituirla Ci sono bene La linea di passaggio E è Che Un'altra Palla E vabbè Perché mi fischi il fallo Era buono il pallone Ci arrivavo Era buono Non concepisce il passaggio Come comunque Ancora vantaggio Andiamo un po' così Sulle punizioni Però facciamo andare Isco Alto Ho giocatori 3 stelle Base Non ho grandi tiratori Per la squadra che ho fatto io Ovviamente Ho giocatori Grazie Grazie Ah Ah Grazie. Ah, peccato. Fermato a mo' go. Vai! Pallo. Pallo. E c'è l'unizione che comunque non è facile da sfruttare. Vado ad andare sotto alla barriera ma non ci sono riuscito. Mannaggia, si è fatto superare. Ma male che ha sbagliato il passaggio. Oh. 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 Vai, Adama. Vai, Adama. No, non sono riuscito a tirare. Era andato in slalom. Finisce il primo tempo. 1-0. Mokoku. Prepotente. Mokoku. Mamma mia. Se n'era andata la sua maniera. Peccato. se n'era andata la sua maniera. No, non sono riuscito a tirare. At' a a a p testa. Madonna Via spazza sto ballone Mette a terra Mette a terra Quei giocatori 3 stelle è un po' così Sbagliano tanti passaggi Mettila in mezzo E' arrivato il momento di fare dei cambi ragazzi E' arrivato questo momento Vediamo un po' Che cambi possiamo fare Allora Adama Traoré Mettiamo Iconet Da quella parte Qui Brian Diaz Per il resto possiamo ancora rimanere così Per adesso Per essere l'uomo Per essere l'uomo Molto probabilmente calcio ad angolo Infatti Via e spingi Vai Oh fallo Era rigore ragazzi Vai Gli esterno Eccolo il 2 a 0 Comunque quello di prima Su AIDS era rigore Secondo me Strattonato proprio Dai dai che ci servono questi tre punti Nessuno va Tutti lisciano La sagra dei lisci Che gioco Adesso facciamo un altro cambio ragazzi Molto importante Cercare di chiuderla Moukoko Rashford Mettiamo forze fresche sulla linea mediana Sempre collante quel mediano che ho messo Eh rega Sempre collante Mi ha aspettato nel secondo trick che ho fatto Molto bravo Molto bravo Moukoko Eh Non era facile di là Eh rega Che aveva comunque Un uomo davanti Di prima Stava tirando Non è facile Un po' esagerato Un po' esagerato Edze Se ne va Se ne va Edze Mamma mia Mamma mia Questa volta Questa volta mi è riuscito a venire Chi è Neymar Neymar travestito Eh mamma mia Chi è Se agregarà 3 minuti al tempo reglamentario Ok ragazzi Ci portiamo a casa Questi 3 punti Molto molto importanti Quindi Sono soddisfatto Complimenti al mio avversario Perché comunque Mi ha dato del filo da torce Ragazzi Che dire Eh siamo a punteggio pieno 3 partite 3 vittorie In questo momento Siamo primi Nel nostro gruppo A A 9 punti Però c'è ancora gente Che non ha giocato Tutte e 3 le partite Il mandato Diciamo tra virgolette Per giocare Le prime 3 giornate Di questo campionato È partito Venerdì E finirà Questo venerdì Una settimana Quindi ci sarà Appunto Un episodio A settimana Fin quando Siamo nel campionato E non Diciamo tra virgolette Nei playoff Che possono essere Champions Europa League O Conference League Ma fino a quando Ci saranno partite Di campionato Ci sarà un episodio A settimana Appunto Composto Da 3 giornate Per adesso Siamo a punteggio pieno Come già ho detto Abbiamo vinto Le prime 3 giornate Cerchiamo Di continuare Così Durante Tutto il campionato Fatemi sapere Nei commenti Se vi è piaciuto L'episodio Fatemi sapere Se vi piace Questo campionato Se vi piace Questa serie Mi raccomando Fatemelo capire Non solo Tramite i commenti Ma anche Tramite una valanga Di like Io vi ringrazio Per essere stati Mie compagnia Noi ci vediamo Al prossimo video Un abbraccio E un saluto Dal vostro Simoplay Bella ragazza